Dopo 20 anni, anzi quasi 30 anni in America, a Miami, insieme a mia moglie e ai miei bambini abbiamo deciso di venire a vivere qua a Conegliano e a seguire questa proprietà a Rolle. È una storia di immigrazione diversa quella di Edoardo e Catrini Ribetti. Loro non hanno lasciato guerra e fame, ma le spiagge dell'oceano di Miami e due occupazioni di tutto rispetto. Dopo 25 anni fatti a Miami, dove spiaggia, caldo tutto l'anno, sono assolutamente contento, felice del fresco che trovo qua in Italia. Vero motore di questa scelta è la moglie Catrini, che fino a qualche settimana fa parlava solo spagnolo oltre all'americano e che ci racconta come sia nato tutto preparando una festa di Capodanno a Miami. Stavo leggendo della zona di Conegliano e Valdobbiadine e ho pensato perché la famiglia da noi vuole vendere questa proprietà bellissima? Noi dobbiamo acquistare questa proprietà e fare una cosa fantastica. Perché solo un pezzo di questo podere di nove ettari nel cuore delle colline UNESCO era stato lasciato ad Edoardo dal suo papà. Così raccogliendo i risparmi e vendendo tutto in America hanno comprato quello che nel frattempo era diventato un bosco coperto di rovi. Ed ora Edoardo, che di mestiere faceva il broker finanziario, adesso usa del cespugliatore e motosega con la prospettiva di tornare a rimpiantare il prosecco che qui veniva prodotto da sempre. Perché il nuovo business è il mercato che Edoardo e Catrina hanno appena lasciato. Io voglio che l'America conosca questo territorio. Loro lo chiameranno del Prosecco Hills, cosa che a me piace molto. Voglio che questo posto possa diventare come la California, come Napa Valley, come Sonoma. E pertanto un posto dove non è solamente d'estate, primavera, ma è un posto che è ricettivo per tutto l'anno. Una scelta che a momento Edoardo e Catrina non rimpiangono, o quasi. No, incredibilmente no. È una cosa che non pensavo mai di poter dire. Neanche la Porsche arancione? Quella sì. Grazie. 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 Grazie.